Ok, vi direi che mi sono fatto male facendo un video di YouTube, ma no, faccia semplicemente schifo a sciare. Ciao a tutti, eccoci qua, benvenuti in un nuovissimo video, io sono Luca e abbiamo fatto un anno. Questo canale ha fatto un anno, volevo un attimino parlare di come è andato, cosa ho capito, cosa ho imparato, cosa ho sbagliato. E parlarne con voi, farmi sapere se anche voi nei commenti avete fatto un pochino gli stessi errori, o se avete intenzione di aprire anche voi un nostro canale YouTube, parlarne, fatemi sapere. Tra l'altro ti sei iscritto al canale? Moltissimi di voi guardano i video, guardano i contenuti, ma non si iscrivono al canale, quindi ricordati, iscriviti al canale e attiva la campanellina per rimanere sempre sintonizzato sui prossimi video che usciranno. Quindi ora torniamo a parlare di quest'anno su YouTube. Allora, i punti che andremo a trattare in questo video saranno tre. Primo, tempo necessario. Secondo, contenuti. Terzo, attrezzatura. Primo punto, tempo da dedicarci. YouTube, ho capito che è praticamente un secondo lavoro. Non è facile, sei praticamente un one man band. Ho montato tutto quanto da solo. Fatemi sapere nei commenti se vi può piacere come tipologia di ambientazione. Credo che questa luce dovrebbe essere più forte, ma vabbè. E diciamo che è parecchio pesante, nel senso che se uno ha un lavoro full time, tipo nel mio caso, un'altra tipologia di lavoro full time, è veramente difficile. Io attualmente sono con un video ogni due settimane. Mi piacerebbe tantissimo fare un video ogni settimana, o ancora di più un video al giorno, ma è veramente difficile. C'è veramente poco tempo e il tempo per YouTube bisogna dedicarlo. Bisogna dedicarlo per, appunto, la creazione del contenuto, il montaggio, la copertina, capire quanti minuti fare. È difficile. Non è così tanto facile come uno può pensare. E io pensavo male. Ebbene sì, ragazzi, ce ne vuole veramente tanto di tempo, considerando che sono le nove e mezza di sera. Dopo una giornata di lavoro, diciamo, è pesantino. Dopo un po' è diventa pesante. Ma ora passiamo al... Secondo punto, contenuti. Quando ho aperto questo canale, onestamente non avevo molta idea di come sarebbe andato avanti. Nel senso, la tipologia di contenuto che avrei portato, il taglio, l'approccio. Mi sono buttato. Mi sono buttato e penso che se tornassi indietro dedicherei almeno cinque minuti nel pensarci. Diciamo che è stato un po' un tuffo nel vuoto. In maniera, diciamo, ma sì, come viene, viene. Se va bene, bene. Se non va bene, va bene comunque. Diciamo che sono partito con i viaggi. Sono partito con i viaggi, ma mi piacerebbe moltissimo iniziare a parlare molto di più, di tecnologia. Anche, diciamo, tecnologia un po' a tutto tondo. Mettiamola così, mi piacerebbe fare una via di mezzo tra il buon Marcello Scani e Yakidale. E anche con un po' di Human Safari, ecco. Quindi diciamo, mondo business, come Marcello Scani. Mondo intrattenimento, tecnologia, Yakki. E mondo vlog, viaggi, Nicolò. Mi piacerebbe fare anche video anche con altre persone, quindi diciamo, sto cercando di ampliare un po' la lista di contenuti che mi piacerebbe portare su questo canale. Quindi diciamo, vorrei far diventare un po' un polivalente. Sono partito con i viaggi, perché paradossalmente era più facile. Era più facile, era più facile partire con questa tipologia di concept. Alla fine il viaggio te lo fai, te lo filmi, ti filmi di esperienza. Anche un po' come ricordo, come diario. E l'ho trovato più comodo, più facile. Non mi dispiace, perché comunque sia, anche negli anni, ad esempio il video dell'Islanda, a volte me li guardo. Anche Lisa se li riguarda, quindi è anche un bel ricordo per noi stessi. Una cosa un po' interessante su, che va via di mezzo tra il primo e questo punto, quindi tra il fatto dell'approccio e il contenuto, sta anche ad esempio nel minutaggio. È una cosa molto difficile, non è così tanto facile, perché comunque sia, magari filmi tante cose, vuoi far vedere tante cose, ma devi bilanciare col fatto che non puoi fare video di 20 minuti. E questo l'ho capito, soprattutto perché i miei primi video durano 20 minuti, quindi non è il massimo. Quindi diciamo che, appunto, far durare video così tanto non è ottimo, anche perché, diciamo che adesso la solida attenzione è veramente bassa. Nel senso che, ragazzi, cioè, uno shorts che dura 30 secondi, la gente lo guarda 15. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non va bene. Terzo punto, attrezzatura. L'abbiamo già citato, ma ha più che ragione il buon caro Yaki, perché in un suo video, che avevo appunto visto prima di iniziare questo canale, l'attrezzatura non serve a nulla. Nel senso che, non è vero che l'attrezzatura non serve, perché comunque sia avere una buona fotocamera, avere delle buone lenti, delle buone luci, assolutamente serve. Ma non fa di voi un ottimo youtuber. Avere un'ottima attrezzatura non farà sì che i vostri video andranno virali, non farà sì che il vostro numero di iscritti aumenterà. Non servirà nulla. Cioè, non influirà. Influisce il contenuto, influisce la storia, influisce se portate qualcosa. E io in questo ho sbagliato. Io in questo ho sbagliato perché ho comprato un sacco di cose. Tantissime cose, ma perché anche mi piacciono, mi piace moltissimo la tecnologia in generale. Quindi, diciamo che le due cose cozzavano. Ecco. Una cosa in cui bisogna investire tanto, credo che siano principalmente due. Un buon audio. Tra l'altro, primo video con questo PodMic di Rode. Fatemi sapere come si sente, soprattutto fatemelo sapere nei commenti perché è estremamente importante l'audio. e delle buone luci. Io ho comprato una Godox, l'ho comprata usata, onestamente. Funziona benissimo. Appunto da qui, minima spesa, massima resa. Con un buon softbox di 120 cm che mi sta illuminando adesso. Sì. Ho un bestione di 120 cm qui davanti che mi sta illuminando. Diciamo che, appunto, i video non sono basati dall'attrezzatura di video nel Marocco. Io li ho fatti con lui. Un iPhone 12 fa video in 4K. Non lo nego, l'audio non era spettacolare, ma ci sono anche dei microfoni sul telefono che potete attaccare direttamente e vloggare direttamente col telefono. Ad oggi mi manca, ad oggi mi manca quella tipologia di microfono, anche perché adesso sono invaso dai microfoni. Ma arriverà. Eh già, arriverà. Penso che arriverà. Purtroppo arriverà. Anche perché il telefono lo sto usando sempre di più. È veramente comodo. Cioè, te lo porti in viaggio tranquillamente invece che portarti 12.000 linti, 12.000 obiettivi, un drone, eccetera. Anche se il drone è una categoria a parte. E comunque sia, ripeto, non dovete per forza comprare 12.000 robe per iniziare. Io, come ho detto nel video in cui mi presentavo, lo lascio qua nelle schede, sarei partito prima. Sarei partito molto prima e ho sbagliato perché ho aspettato di avere una fotocamera. Io ho una Sony ZV-10, mi è stata regalata come regalo di laurea e l'anno dopo, più o meno sei mesi, sono partito per l'Islanda e lì abbiamo iniziato un po' il tutto. Queste sono le cose principali, cose che ho capito in quest'anno. Non so se 175 iscritti siano tanti o pochi per la YouTube Italia in un anno, onestamente. Quindi vi ricordo, iscrivetevi al canale così siamo sicuri di arrivare a un buon numero, abbastanza. E ecco, altra cosa, fatemi sapere veramente come si sente con questo microfono nei commenti e nulla. Ci si vede alla prossima, sperando di togliermi sto cosa. Ciao ciao ragazzi!